Mi state guardando, no? Sì, sì. Allora, attenzione, chi vuole seguire, entrare con noi visivamente, Eufrasio di Radio Maria Panama ci porta a visitare gli studi di Radio Maria Panama in diretta, siamo live, sulla nostra pagina Facebook. Andateci subito, subito. Grazie, Eufrasio, vai. Sì, ok. Qui, in questo momento, siamo in un studio che prima era l'estudio dove facevamo delle registrazioni, invece, come voi vedete, è diventato verde perché l'utiliziamo di più per fare delle dirette anche video. Quindi un po' per fare delle cose tramite YouTube, trasmettere le dirette video. Invece, se andiamo fuori, vediamo anche il nostro studio in diretta che di solito, adesso, il prossimo programma sarà tra pochi minuti, ma questo è l'estudio in diretta, dove facciamo tutto durante il giorno. Noi cominciamo alle sei con la preghiera del Rosario, alle sette abbiamo la mese fuori e alle otto cominciamo qui, in questo studio, con dei diversi programmi, no? Ok. Adesso andiamo all'estudio, all'estudio principale, sì, alle regie. All'estudio, ok, ok. Qui c'è con noi Lidia, che ha anche con me tantissimo tempo qui a Radio Maria e lì sta preparandosi per preparare il programma delle otto. Questa è la regia principale di Radio Maria di Panna, quello che state guardando. No, complimenti, abbiamo una tecnica, abbiamo un tecnico, benissimo. Poi andiamo all'estudio, che è lo studio dove si fa la parte video durante le dirette che c'è anche con noi, anche Marcella, ed qui dentro, vai avanti. Questo è l'altro studio. Fortissima la presenza femminile, molto bene, fortissima. Grandi, grandi. E anche giovane, Marcella, anche giovane, 28 anni qui con noi. Ciao, Marcella, 28 anni, tecnica grande. E dietro delle telecamere vediamo anche a Joshua, facciamo anche un giovanissimo. Sì. Che sta lì con noi. Ciao. Joshua, si chiama. Eccolo. E questa è, diciamo, allora la parte degli studi di Radio Maria. Grazie, ciao carissimo, bello. Che bello. Beh, insomma, è uno staff giovane come il nostro, eh? Complimenti. Bravi ragazzi, bravi.